Siamo a Valencia per il secondo anno consecutivo, anche quest'anno abbiamo organizzato una parata nel centro della città, girerà una Formula 1 con Luca Padua e una 599 XX con Maurizio Mediani e il pilota di Valencia Alvaro Barba, vincitore dell'Open GT con un 430 GT2, oltre chiaramente a tre macchine della nostra gamma. Il pilota di Ferrari è sempre qualcosa di speciale, sono molto orgoglioso di guidare il pilota di Ferrari, perché è una fantastica emozione per la testa, per la raccoglione, ma anche per l'exhibizione. Siamo qui ora per mostrare alcuni lapsi con un'auto di ruota, credo che sarà una buona pubblicità, una buona commerciale per il weekend di Valencia Alvaro Barba. La gente che compra un Ferrari non compra solo un'auto, ma con un Ferrari hanno una sensazione che non è possibile oggi con un'auto, solo con un Ferrari. con un Ferrari 4030 e con un Eiffel Corzettino. È fantastico per guidare un'auto di Ferrari nella mia città, è un sogno per me. Saremo tutti sul circuito Riccardo Tormo con le attività che vedranno impegnate le nostre Ferrari Challenge che termineranno i campionati italiani, europeo e americano. Le attività legate allo speciale programma 599XX ed FXX, i clienti Formula 1 e poi l'abituale parata esibizione della domenica, dove avremo tutti i piloti della scuderia con le Formula 1 e i piloti che sono stati protagonisti nei maggiori campionati GT internazionali. Grazie a tutti. Grazie a tutti.